Ciao a tutti! Qualche giorno fa vi ho condiviso un video dove vi facevo vedere come trattare con la foto biostimolazione. Questo apparecchio che è facile, che è portatile, che è molto carino, è una dermapen. È una dermapen che si può utilizzare in diversi modi. È un apparecchio che ha la capacità, montandogli su questo multi-iniettore, adesso questo ne ha 42 aghi, ma altrimenti ce ne possono essere da 36 e anche da 24, anche da 9, da 12. Cosa fa? Attraverso la capacità di andare a fare un lavoro di verticale, va a stimolare, va a punzecchiare tutta la nostra pelle e va a creare un richiamo di elastina e collagene. In più ci permette di grattare proprio la nostra pelle e di andare a rinnovare completamente i tessuti. Questo ci permette di avere il viso più pieno, di rivavere un lavoro di togliere le macchie e soprattutto ci permette di rimpinguare e rendere un pochino più denso il tessuto della nostra pelle. Il medico lo utilizza con una profondità che va fino al derma e quindi va a fare un'abrasione decisamente più profonda, ma lasciamolo fare ai medici perché ci sono una serie di effetti collaterali come rischio di infezioni e tutto il resto, quindi dovete assolutamente rivolgervi al medico estetico o al chirurgo estetico o a chi ha le competenze. Mentre se lo acquistate, visto che si può acquistare sia la versione più professionale che la versione più casalinga, si può acquistare tranquillamente in internet, il consiglio che vi posso dare è di non superare l'1,5 massimo 2 della nostra ghiera di profondità. Questo perché? Perché non serve andare più in profondità? Nel senso che a noi serve punzecchiare, adesso io naturalmente non lo sto facendo perché oggi ho anche preso il sole, quindi andiamo proprio a stimolare, a grattare tutta la nostra pelle e a dare al nostro viso la possibilità, attraverso tutti questi microforellini di stimolazione, di rigenerarsi. Una cosa che non avevo notato e che mi ha fatto notare oggi mia cognata è che in realtà è molto potente sulle labbra. In effetti, se vedete, andando a lavorare sull'irrorazione sanguigna, su questa zona ha avuto un effetto di avere il tessuto più luminoso, più compatto e più di smacchiare, mentre sulla zona delle labbra ha un effetto di chiamare più sangue e di renderle più cicciotte come il viso anche le labbra e di riportarle al turgore di quando eravamo più giovani. Questa è un'azione fantastica perché ha un effetto pumping, quindi un effetto labbra più corpose e più rinvigorite. Io, forza di vederle, non me ne ero accorta, me ne ha fatta accorgere stamattina mia cognata. In questo periodo che però prendiamo il sole, la macchinetta, io vi consiglio di utilizzarla con gli aghi, vi consiglio di utilizzarla solo sulla sua parte di fotobiostimolazione. La fotobiostimolazione, attraverso le frequenze e l'uso dei vari colori, noi possiamo andare a creare delle reazioni a livello cutaneo e in base alla scelta del colore come utilizziamo la dermapenne, noi possiamo dare alla nostra pelle un effetto più o meno di pumping e più o meno di turgore. Questa è la fase in cui noi possiamo, mettendo comunque sempre un prodotto, adesso questo è un prodotto fantastico che è un balsamo per le labbra, quindi noi possiamo sempre, anche dopo l'esposizione solare, cosa che con gli aghi non possiamo assolutamente sporci poi al sole, per decisamente tanti giorni, con invece la parte dermo, noi possiamo fare questo lavoro e continuare a stimolare per continuare ad avere le nostre labbra più corpose. È un effetto fantastico di cui non mi ero accorta e invece cercherò di porre decisamente grande attenzione e di farlo giornalmente. Questo naturalmente noi possiamo, io avevo già messo sotto della vitamina C e dello ialuronico, perché ho preso il sole e quindi naturalmente andiamo a stimolare. Per imparare a usare la dermapen voi potete seguire dei bellissimi video che ci sono su YouTube o altrimenti potete sempre venire in studio e vi faccio una lezione personalizzata. Posso farvi una lezione personalizzata anche online, quindi ci basterà metterci d'accordo, dovrete avere naturalmente la dermapen o se no ci possiamo vedere preventivamente e sceglierla insieme, la dermapen. E la bellezza di lavorare con la fotobiostimolazione è che potete lavorare anche l'orbicolare dell'occhio in totale tranquillità, senza rischiare di avere problematiche di nessun genere. E la potete fare tutte le volte che volete, magari anche solo 10 minuti tutte le sere. Sulle labbra, sul viso è importante mettere un buon vitamina C, ialuronico, poi magari ve ne parlerò nei prossimi video. Ma sulle labbra è importante mettere dei prodotti che abbiano un effetto di pumping. Un prodotto di cui voglio, adesso finisco un attimino di passarla, perché visto che la sto passando con voi, mi piace fare bene tutto il lavoro e poi naturalmente gli metterò una buona crema. Soprattutto dopo aver preso il sole, io sto utilizzando la luce blu, perché la luce blu, comincio a dirvelo lo stesso anche se dovrei dirvelo solo nelle sessioni di formazione, la luce blu toglie gli stati infiammatori. Una cosa molto molto carina è questo prodotto qua, per le labbra. Questo prodotto qua me l'ha consigliato una collega, che lei è estetista, e questo prodotto qua sono due prodotti, c'è scritto prodotto uno e prodotto due. Ok? Questo, quando avete fatto la foto biostimolazione, come ho fatto io prima, potete metterla bene nel contorno labbra, pizzicherà un pochino, ok? Ha un gusto un po' di menta, ma proprio di menta, eh? E è una specie di balsamo che va e sfregate un pochino, soprattutto il contorno labbra, ok? Una cosa che mi sono dimenticata di dirvi, se fate il needling con, quindi la foto biostimolazione, non vi crea nessun tipo di problema sulle labbra. Se invece utilizzate gli aghi, state attenti, perché una cosa di cui mi sono accorta io, è che mi ha smacchiato, assolutamente sì, ma io avevo un tatuaggio del contorno labbra, e probabilmente ormai era datato, e quindi comunque sia, sarebbe venuto via lo stesso, ma se vedete, vedete che ha lasciato il gianco. Quindi se avete un tatuaggio sulle labbra, non passatela mai con gli aghi, ma passatela solo con la luce. Se invece avete soltanto il contorno delle labbra fatto con il tatuaggio, passate su tutta la zona del, soprattutto del centrale, di questa zona qua, che ha bisogno di essere rincicciottita, com'era quando eravamo più giovani, ma non passate sul contorno, sennò rischiate di fare quello che ho fatto io. Quindi di schiarirle troppo, va bene, non è un problema grave. Allora, adesso continuate a massaggiare l'uno, ok? Le labbra, essendo già piene di sangue e belle irrorate dal nostro lavoro con la foto biostimolazione, in realtà, ok, si rimpingono ancora di più. Dopodiché utilizzeremo il prodotto 2, questo è il mio, io preferisco utilizzarlo così, ok? Gliela mettete e schiacciate così. Fate proprio questo effetto, ok? Quando avrete fatto sia l'uno che il due, sentirete un po' pizzicare, voi continuate a massaggiare schiacciando in questo modo, vedete? E in questo modo. Se vi avanza del prodotto, non vi fa male, passatelo sempre nelle naso labiali, che, come dico sempre io, va sempre bene. Allora, questi sono i punti che dovete sempre massaggiare, soprattutto quando avete superato, come me, i 50. Vi auguro una buona giornata, spero di avervi dato delle info importanti sulla Dermapen, se non l'avete ancora acquistata, possiamo sentirci telefonicamente, posso darvi tutte le indicazioni del caso, se l'avete già, non sapete usarla, o preferite imparare ad usarla al meglio, resto sempre a vostra disposizione per delle consulenze online o anche live. Sapete che sono in studio sia in Alessandria che qua a Frugarolo. Vi auguro una buona felice domenica, fine domenica. Ciao ciao!